6 Daspo Urbano, i cosiddetti Daspo Willi, sono stati emessi a carico di 6 persone, protagoniste di una violenta rissa verificatasi lo scorso 18 agosto a Tortorici. Si tratta di 3 donne e 3 uomini, con una età compresa tra i 18 e i 33 anni, che crearono caos e scompiglio nella notte, in pieno centro cittadino e nei pressi di alcuni esercizi commerciali. Secondo la ricostruzione dei fatti, gli autori della rissa si sarebbero aggrediti l'un l'altro, lanciandosi a vicenda il contenuto di alcuni bicchieri da cocktail e passati dagli insulti ai fatti colpendosi e spintonandosi a vicenda. Futili le motivazioni da cui è scaturita la grave condotta dei sei. La rissa fortunatamente non ebbe altri strascichi, grazie all'intervento di alcuni avventori, nonché dei titolari degli esercizi commerciali interessati. Il severo provvedimento di divieto d'accesso alle aree urbane è stato emesso dal questore di Messina Gabriella Iopolo, a seguito delle indagini svolte dalla Divisione Anticrimine della Questura, che ha attentamente esaminato la condotta dei sei soggetti, su segnalazione dei militari in servizio presso la Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Sant'Agata Militello. A seguito del provvedimento adottato dal questore, i sei destinatari del DASPO non potranno accedere, a seconda delle condotte per un periodo da sei a dodici mesi all'interno dei locali pubblici interessati dalla rissa, né stazionare nelle loro immediate vicinanze. Grazie.